20 anni di immigrazione in Italia raccontati dal rapporto della fondazione ISMU. Erano 500 mila nel 1994, sono 5 milioni e mezzo oggi, anche se la crisi economica degli ultimi anni ha reso l'Italia molto meno attraente rispetto ai paesi del nord Europa e alla Francia. Gli immigrati irregolari oggi sono ai minimi storici, circa il 6% del totale, stimato in 300 mila persone anche per effetto delle recenti sanatorie. Per quanto riguarda gli sbarchi sulle coste italiane, da inizio anno a metà ottobre, sottolinea lo studio, sono giunti in modo non autorizzato via mare quasi 150 mila migranti, di cui 40 mila soccorsi dalle operazioni Mare Nostrum o Frontex. Quasi la metà delle persone sbarcate sono siriani ed eritrei, 28 mila 700 le domande d'asilo presentate negli ultimi 12 mesi. Nel 2013 sono aumentati anche se di poco, più 22 mila gli occupati stranieri in Italia, mentre quelli italiani sono crollati, meno mezzo milione. Restano comunque basse le qualifiche, il 29% degli stranieri è impiegato in un'occupazione elementare, il 52% lavora come operaio specializzato, il 13% svolge funzioni impiegatizie e solo il 5% occupa una posizione apicale. Secondo lo studio Ismu, neppure uno su dieci tra stranieri, diplomati e laureati svolge un lavoro qualificato, mentre più di quattro immigrati su dieci risultano sovraistruiti, ossia impiegati in mansioni che richiedono competenze inferiori rispetto al loro titolo di studio conseguito. In Lombardia gli stranieri regolari residenti sono quasi un milione e 130 mila, uno su quattro del totale nazionale. La provincia di Milano continua ad essere la meta principale degli immigrati, 416.137 che rappresentano l'8,5% del totale nazionale.